Siamo con gli scoglionati Viola perché domenica un evento importante per loro perché è un'iniziativa molto particolare che è partita dall'Elba. Sì, diciamo che in questo tempo, nel tempo in cui noi siamo nati, dal 2011 a oggi abbiamo avuto tante idee. Questa forse per il momento è la migliore. Praticamente il nostro consigliere Federico Pellegrini ha realizzato lo stadio Artemo Franchi in vetro e il suo desiderio era quello di consegnarlo, di donarlo alla Fiorentina. Ci siamo riusciti, Luigi vuoi spiegare come? No, va bene, noi ci siamo riusciti, abbiamo fatto le nostre votazioni, abbiamo tirato fuori la nostra top 11 e abbiamo contattato la Fiorentina e la Fiorentina ha visto il filmato che è sotto YouTube che abbiamo ripreso quest'estate è rimasta soddisfatta e ha accettato il nostro dono e verrà esposto in tribuna autorità e domenica appunto in presenza del dottor Baiesi ci sarà questa consegna e lo stadio del nostro, dell'invetro, andrà al Franchi in bella mostra e quindi gli scoglionati Viola e un altro pezzo di Isola d'Elba sarà allo stadio Franchi. Ci sarete anche voi? Sicuramente sì, ci saremo, l'appuntamento è per le 13, ci sarà una piccola cerimonia con i dirigenti della Fiorentina qualche intervista che dovrebbe andare su Viola Channel e dopo ci gusteremo Fiorentina Sampdoria.